Musica Siamo alla Corugna, città della Galizia che si trova sulla punta nord-occidentale della Spagna, uno dei luoghi più assolati della penisola iberica, dove d'estate il sole tramonta dopo le 10 di sera. Una città allegra e cosmopolita, aperta al viaggiatore, che qui può godere di un affaccio privilegiato sull'oceano atlantico. Il blu dell'Atlantico ci accompagnerà per tutto il nostro viaggio. Dalla Corugna proseguiremo fino a Finisterra, per poi risalire la leggendaria Costa della Morte e tornare infine al nostro punto di partenza. Non ci resta che orientarci un po' e lanciarci immediatamente alla scoperta di questa luminosa città. La Corugna sorge su una piccola penisola circondata a 360 gradi dall'oceano. Il tram percorre parte dei 9 chilometri di lungomare, pensate il più lungo d'Europa. I più sportivi possono usufruire della lunga pista ciclabile e pedonale che accompagna il tragitto del tram. La storia di La Corugna è quella del suo porto che risale ad epoca romana. Oggi è uno dei più importanti d'Europa. La Corugna viene chiamata la città di cristallo per le sue tipiche verande, chiamate Galerias, un vero specchio di riflessi. Non abbiamo un itinerario preciso per questa prima giornata in Galizia, ma a Daltram intravediamo un luogo irresistibile di relax assoluto, la spiaggia. Ormai è deciso, scendiamo alla prossima fermata. Eh sì, gli abitanti di La Corugna sanno proprio godersi la vita. Sono poche le città al mondo dove è possibile uscire di casa con l'asciugamano in spalla, attraversare la strada e rilassarsi al sole. La spiaggia si trova in pieno centro città. Nelle ore di punta si affolla come una piazza in festa. Turisti e gente del posto, sportivi e pigri, tutti qui. A prendere il sole e a respirare a pieni polmoni l'aria dell'oceano. Dopo una mattinata trascorsa nell'ozio assoluto, il pomeriggio lo dedichiamo ad una visita della Ciudad Vieja, il centro storico il cui punto nevralgico è la Piazza Maria Pita, dedicata all'eroina che cacciò dalla città gli invasori inglesi guidati da Francis Drake. Dall'elegante palazzo municipale partono le visite guidate alla scoperta dell'anima storica della città. La Ciudad Vieja è un intimo ecosistema romanico fatto di tranquille vie lastricate e chiese che profumano di incenso. La chiesa di Santiago del XII secolo è la più antica di tutte e ci ricorda che da qui passa uno degli itinerari di pellegrinaggio diretti a Santiago de Compostela. Nelle vie a ridosso del porto troviamo la miglior offerta in fatto di taverne e ristoranti dove è possibile mangiare ogni specialità della terra e del mare di questa regione. Noi non vediamo l'ora di assaggiare il famoso polipo alla Galiziana. E' possibile addentrare un panino e continuare a girare la città oppure sedersi comodamente in un locale meglio ancora se affacciato sulla piazza Maria Pita nella sua splendida veste notturna. Oggi comincia la nostra avventura fuori città. Coloro che associano la Spagna ai mulini a vento e al flamenco sappiano che la Galizia è un'altra Spagna punteggiata di boschi dalle vaste gamme di verde che nascondono tracce di un antico passato celtico come i Donnen. Ciò che attira la nostra attenzione sono queste strane costruzioni di pietra. Si chiamano orreos e scopriamo che sono dei granai. Proseguiamo seguendo l'orografia delle Rias le tipiche inserature della Galizia in cui il mare si spinge fino all'entroterra creando angoli paradisiaci. Eccoci finalmente a Finisterra un paesino dove le abitazioni hanno gli stessi colori vivaci delle imbarcazioni segno che la gente di qui si trova a proprio agio nel mare come nella terra. La Galizia è la patria dei pescatori una regione che ha affascinato tutti i popoli che l'hanno conquistata. Furono i romani a chiamare questo luogo Finisterre, fine della terra. Essi credevano che il mondo finisse qui perché ogni sera vedevano il sole sprofondare nell'oceano. Sentire risuonare la Cornamusa in Galizia è una cosa consueta è lo strumento tradizionale che contraddistingue questa terra. Il faro di Finisterra è il punto di partenza di chi, come noi, risalirà la leggendaria Costa della Morte. La Costa della Morte deve il suo nome ai numerosi naufragi provocati da queste coste impervie e frastagliate. La Costa della Morte è punteggiata da numerosi fari i fari più occidentali d'Europa le ultime luci del continente. Il faro di Cabo Villan è forse il segnalamento più suggestivo di tutti è ancora abitato dal guardiano e dalla sua famiglia. La sua sagoma imponente si staglia all'orizzonte come quella di un castello incantato. Per niente al mondo ci perderemo questo tramonto. Abbiamo trascorso la notte in una comoda pensione a Camarignas. Troviamo la proprietaria occupata nel ricamo al tombolo. Camarignas è conosciuta in tutto il mondo per essere la patria delle paliglieiras le ricamatrici che ogni giorno nelle piazzette affacciate sull'oceano muovono i paliglios facendo crescere come per incanto autentiche filigrane di filo. A Camarignas la giornata comincia all'alba quando le mariscadoras si recano nelle fangose rias munite di secchio e zappa per raccogliere dei frutti di mare che qui si dice siano i migliori. Oggi percorriamo un itinerario che attraversa una zona protetta ricca di piccole insenature e spiagge selvagge. E' proprio sugli scogli più battuti dalle onde che crescono i crostacei più prelibati della Galizia i Persebes. Raccoglierli è pericolosissimo ma questi intrepidi pescatori i Persebeiros sanno muoversi come equilibristi tra gli scogli e il mare quegli stessi scogli traditori che furono colpevoli di centinaia di naufragi. Il sentiero giunge al paesino di Cameie. Su un piccolo molo visitiamo un originale museo all'aria aperta opera di un misterioso naufrago tedesco che realizzò queste strane sculture con il materiale fornito dal mare. Questi cartelli ci ricordano un naufragio molto più recente quello della petroliera Prestige. Ormai sono poche le zone che portano ancora i segni del Ciapapote la melma nera che nel 2002 imbrattò questa meravigliosa costa. Ci fa piacere vedere che questo mare sta rapidamente guarendo. secondo la leggenda le Rias sorsero quando Dio creato il mondo appoggiò le dita sul paradiso terrestre per poi riposarsi e queste spiagge hanno veramente qualcosa di paradisiaco. Siamo tornati alla Corugna e veniamo immediatamente proiettati all'inizio dell'Ottocento. Truppe d'altri tempi inglesi, francesi, russe e spagnole stanno per rendere omaggio a Sir John Moore generale inglese che nel 1809 perse la vita per difendere la città dai francesi. Ognuno rende omaggio all'eroe suonando il proprio inno e anche se le manovre sono un po' impacciate il rigore e la serietà di queste variegate truppe è indiscutibile. Mancano poche ore alla nostra partenza dalla Corugna ma abbiamo ancora un paio di cose da vedere. Il castello di San Anton posto su un isolotto di fronte alla città ci offre la possibilità di ammirare la Corugna per un'ultima volta. Eccoci infine sulla lingua di terra che ospita l'antica torre d'Ercole il simbolo della città. È l'unico faro romano esistente al mondo e ancora funzionante. Questo promontorio è l'unico faro romano è un'ultima volta di farlo. È l'unico faro romano e ancora funzionante. Grazie a tutti